Musica Musica Benvenuti dietro le quinte, in questa puntata sogno di una notte di mezza estate con i comici di Zelig, regia di Joelle Dix, 5 bacchi da setole e un bozzolo, una mostra di Pino Pascale. Sogno di una notte di mezza estate, regia di Joelle Dix, una produzione banana se teatro stabile di Verona. Comici e musicisti sono il mix utilizzato da Joelle Dix per affrontare la sua regia del sogno. L'idea nasce dalla convinzione che proprio un testo classico possa essere il terreno ideale per artisti abituati a dare un corpo del tutto singolare alle parole e ai suoni che si trovano ad interpretare. In questa versione del sogno, ambientata in una sorta di selva periferica post-industriale, le tradizionali gerarchie tra i personaggi vengono sovvertite. Ne parliamo con la compagnia. Dietro le quinte dello spettacolo sogno di una notte di mezza estate con una comicità diversa, una comicità raffinata e soprattutto interpretato da dei comici d'eccezione. Iniziamo innanzitutto dal tuo personaggio e perché hai accettato questo ruolo. Ho accettato perché era una sfida, non tanto per la parte comica quanto perché comunque tutti interpretano due personaggi. Come si può mantenere i personaggi sexpiriani rinnovando nella propria comicità? Allora, sicuramente l'aspetto comico ci ha aiutato molto a dare un aspetto diverso al testo. Noi siamo abituati a entrare e uscire dai personaggi e lo facciamo da comici e quindi questo permette di avere uno scarto tra il livello teatrale e la cilieggina che regaliamo in più forse di altri spettacoli che sono fatti benissimo ma magari gli attori sono un po' più tromboni. Parliamo invece dell'improvvisazione in scena, se c'è, di solito i comici improvvisano sempre, e del rapporto con il regista Joële Dix. Che mi raccontate di Joële? Il nostro regista è stato con noi fino a ieri e proprio su questo abbiamo anche parlato e discusso molto, sul fatto che non bisognava più improvvisare, che bisognava mantenere più o meno questo. Ovviamente qualcosa scappa sempre e è il suo bello, però non bisogna sbrodolare o esagerare. Lissandro, ci parlerai invece della novità di questo spettacolo, della novità e della partitura scenica, come è stato costruito? La domanda più difficile mi è capitata. Certo. Motevi dire dove siamo? Dicevo Bari, quindi. No, la novità, come diceva prima anche Corrado, il fatto che si è interpretato da comici, in realtà questa esperienza è stata fatta negli anni Ottanta dal gruppo dell'Elfo con Salvatore e dei Capitani, dove c'era anche Bisio. E visto che la coproduzione anche di Bananas, che è l'agenzia intorno al mondo Zelig, è un po' tornare un po' alle origini rispetto al linguaggio per raccontare il sogno. Nel sogno di Joelle Dix è la compagnia dei comici e artigiani a dominare la scena, ad impadronirsi a sorpresa di tutti i ruoli e a diventare il perno essenziale attorno a cui ruota l'intera vicenda. E così il gruppo di fragili mestrianti della risata cercherà di mantenersi integro nella lunga e famigerata notte di metà estate, fra esuberanze giovanili e promesse non mantenute, oscuri presagi e provocazioni, colpi di genio e cialtronerie, amori che muoiono troppo in fretta e sostanze proibite che minacciano il loro già precario equilibrio. Secondo voi, che cos'è la comicità? Cioè come nasce la battuta in scena? Qual è il segreto per far ridere il pubblico? Esiste oppure no? Ma sicuramente dal talento naturale che un individuo ha perché non c'è una scuola che ti insegna a essere comico, ce l'hai e con l'esperienza lo sviluppi. Chiaramente l'improvvisazione per noi è che siamo gente navigata, che abbiamo anni di esperienza alle spalle e è molto più facile. Chi non ce l'ha la acquisisce lavorando e facendo esperienza. Ma è vero che la comicità è una questione di ritmo? Bisogna cercare di dare ritmo alla scena? Sì, è solo questione di ritmo, è matematica e qua abbiamo una attrice ma è laureata in matematica e quindi ci aiuta, almeno a me perché facciamo coppia, ad avere una scadenza. Mi porta il tempo sotto il tavolo. La scena più bella dello spettacolo per cui vale proprio la pena pagare il costo del biglietto. La recita finale, insomma dove siamo tutti in scena, tutti coinvolti. Allora diciamo, l'anticipiamo, c'è un uomo vestito da donna, un uomo vestito da muro, un uomo vestito da leone, una donna con un cavallo in testa. Un uomo vestito da uomo. E con ogni sera una special guest che viene a teatro, insomma che fa un ingresso, abbiamo avuto Robbie Williams giovedì. Stasera c'è Cassano, domani Obama. Pino Pascali, cinque bacchi da setola e un bozzolo. È il titolo della mostra inedita ed esclusiva per l'Italia che Fabio Sergentini, gallerista e mentore di Pino Pascali, ha ideato per la Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare. Nel marzo del 1968, a pochi mesi dal suo tragico incidente, Pino Pascali, presso la Galleria Lattico di Fabio Sergentini, espone per la prima volta i bacchi da setola, sculture a forma di grandi bruchi realizzati con materiale industriale dai colori sgargianti, spazzoloni in acrilico sostenuti da strutture in ferro e posizionati ad invadere lo spazio della galleria. Ne parliamo con la dottoressa Rosalba Branà, direttrice del museo. La mostra cinque bacchi da setola. Innanzitutto la particolarità di questa installazione. Sì, è una mostra evento, direi, perché non veniva più allestita proprio dal 68. Pochi mesi prima di morire in un incidente di motocicletta, Pascali espose queste opere. Cinque bacchi da setola, facendo proprio il gioco linguistico da seta e setola con cui sono fatti questi bacchi. E' una ragnatela a muro, anzi meglio sarebbe dire un bozzolo, perché i bacchi vanno verso il bozzolo di seta. L'opera fu fatta per la galleria Lattico di Fabio Sargentini a Roma. La novità è stata ricreare la ragnatela. Abbiamo usato una macchina proveniente da Cinecittà, che ha ricreato con filamenti, schiume, colle, questa ragnatela bozzolo, molto soffice, verso cui convergono i bacchi. Dopo di noi la mostra farà un giro in musei europei e anche americani, tra cui il MoMA, andrà a Londra. Quindi, insomma, per noi è un evento molto importante. Però la vera chicca di questa mostra è l'atelier di Pino Pascali. Allora, l'atelier Pino Pascali, ho visto che sta riscuotendo molto successo, soprattutto nei giovani, perché così entrano in un aspetto quasi intimo dell'artista. Vedono i colori che usava, vedono il suo fucile da pesca subacquea, vedono i libri che leggeva, i manifesti che attaccava al muro. Noi l'abbiamo ricreato in maniera immaginaria l'atelier di Pascali, non avendo fotografie di com'era. Però abbiamo usato tutto quello che lui aveva lasciato nel suo studio. La mostra Est-Ovest, un dialogo tra Puglia e Montenegro, nasce dalla collaborazione tra il Museo Fondazione Pino Pascali e il Ministero della Cultura della Repubblica del Montenegro. Una selezione di artisti montenegrini presso il Museo Pino Pascali e artisti pugliesi in Montenegro. L'intento è creare un dialogo virtuale e un rapporto vitale tra le due sponde dell'Adriatico. Uno spazio visivo nel quale narrarsi e conoscersi per giungere attraverso il linguaggio dell'arte ad una pratica culturale collettiva e condivisa. In corso qui anche un'altra mostra. Di che cosa si tratta? Noi abbiamo scelto sei artisti, alcuni proprio dell'Accademia di Setigne, che sono qui in mostra ed è una mostra a scambio. Noi siamo andati in maggio in Montenegro con dei nostri giovani artisti e ora ricambiamo la visita ospitandoli. C'è un lavoro sull'anti-Facebook, per esempio, che è molto interessante. C'è un lavoro, un'installazione di una città fatta solo di scontrini dei supermercati. C'è un lavoro sulla incomunicabilità della coppia. Parliamo un po' del filo conduttore delle mostre qui selezionate alla Fondazione Pino Pascali. Ci saranno degli atelier didattici proprio sui bacchi da setola, fatti con bambini delle due scuole elementari di Polignano. Abbiamo appena concluso un altro stage didattico proprio sull'allestimento museale e sono venuti da noi 15 studenti del Liceo Artistico di Lecce. A ottobre, dopo la mostra del Montenegro, facciamo un'altra mostra didattica sul cinema degli anni Sessanta e Pascali, che viveva a Roma durante la produzione dei film di Fellini, di Antonioni, per capire se ci possono essere state influenze tra il cinema degli anni Sessanta e le opere di Pino Pascali. Ma il museo ospita anche la collezione permanente di Pino Pascali. Si ospita una collezione che è fatta da molte donazioni di artisti pugliesi, poi anche le acquisizioni dei premi Pino Pascali. Abbiamo ripristinato un premio dedicato a Pascali che era fermo dal 79, noi l'abbiamo, diciamo, resuscitato e adesso vi partecipano i più grandi artisti europei, internazionali e quindi abbiamo anche le opere dei vincitori del premio Pascali. E adesso Weekend al Cinema! Sam e Susie si conoscono ad una recita ed è subito colpo di fulmine. Si innamorano e decidono di scappare insieme architettando il piano nel minimo dettaglio. Il regista racconta la fuga d'amore di due adolescenti in un'isaletta d'America colorata come in una favola, immagini come illustrazioni e protagonisti simpaticamente anacronistici. E con questo è tutto, vi ricordo per le vostre segnalazioni infochioccioleditrolequintetv.com e arrivederci alla prossima puntata!